Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del germe. Oggi parliamo delle parole di Sarri post Cremonese Lazio. Sarri ha parlato nuovamente del germe nel post partita di Cremonese Lazio perché gli è stato chiesto dal giornalista in questione e ha chiarito definitivamente che cosa intendesse con la parola germe. Lui in pratica parla di un pensiero inconscio nella testa dei calciatori che a volte si credono fortissimi, si credono più forti dell'avversario che quindi sottovalutano e questo porta a scendere in campo con arroganza e presunzione. Si credono sto cazzo, quello che ho detto io nel post partita di Micelland Lazio solamente che utilizzando queste parole invece che la parola germe però il concetto è pressoché identico e questa è una cosa che la Lazio si porta avanti da 5 o 6 anni e io che la seguo giornalmente da 11 anni la conosco questa squadra la conosco meglio delle mie tasche quindi è un problema che la Lazio si porta appresso da 5 o 6 anni e molti si stanno facendo questa domanda ma i calciatori devono essere motivati da Sarri cioè è l'allenatore che deve motivare i calciatori questa è la domanda io una mia idea già ce l'ho e vorrei esprimerla citando le parole di Spalletti calciatore forte, mente forte, testa forte per cui motivo a quello, motivo a quello no è un motivo proprio a nessuno tu vieni e sei bello e motivato perché giochi nel Napoli questo è il pensiero di Spalletti e io sono completamente in linea con questo pensiero tra l'altro non parliamo di un coglione qualunque cioè il Napoli di Spalletti scende in campo sempre, con grinta, con fame e non è Spalletti a motivare i calciatori perché non deve essere lui colgo l'occasione infatti per citare anche le parole di Bruno Giordano di una settimana fa a Radio 6 che parlando di Maestrelli disse Maestrelli era un uomo di poche parole lui ti dava due o tre indicazioni prima della partita e poi eri tu a scendere in campo la Lazio con Maestrelli vinse il suo primo scudetto perché c'erano calciatori che avevano la testa che avevano la mentalità che scendevano in campo e non avevano bisogno di essere motivati da qualcuno lo erano già non avevano bisogno di essere imboccati da Maestrelli con un cucchiaio di brodaglia di motivazioni i calciatori non devono essere imboccati dai propri allenatori non è così che funziona il calciatore o ha la testa oppure non ce l'ha molto semplice molto semplice poi ho letto un commento che diceva però ci sono anche allenatori che sanno essere motivatori come per esempio Conte guardate infatti l'Inter di adesso e paragonatela all'Inter di Conte quella di due anni fa allora a parte che quando Sarri e Conte hanno lottato per lo scudetto lo ha vinto Sarri e chissà perché chissà perché e poi la differenza tra l'Inter di adesso e l'Inter di due anni fa è una differenza piccolissima di calciatori Conte aveva un De Vrij con due anni in meno rispetto ad ora ma soprattutto aveva un certo Eriksen non Cialanoglu a destra e a sinistra aveva Hakimi e Perisic non Dumfries e Darmian o Di Marco no? una piccolissima differenza perché in campo ci scendono i calciatori sono i calciatori che scendono in campo ok? e mentre l'Inter negli ultimi due anni si è indebolita a livello di Rosa le altre squadre incluso il Milan si sono rafforzate molto semplice ragazzi il calcio è più semplice di quello per cui lo volete far passare voi è molto semplice molto semplice voi pensate che Felipe Anderson sotto la guida di Conte possa diventare un calciatore diverso? no rimarrà Felipe Anderson rimarrebbe anzi Felipe Anderson un calciatore discontinuo ma discontinuo soprattutto a livello mentale e questa cosa non gliela può cambiare nessuno 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 e come Felipe Anderson la Lazio ha altri calciatori altri calciatori che hanno la mentalità e poi la perdono la perdono perché si credono fortissimi vi faccio un ultimo esempio la Lazio che quell'anno con Inzaghi lottò per lo scudetto ok perché nel periodo post lockdown andò così male? lo ha detto Parolo lo ha detto Parolo qualche mese fa in un'intervista Parolo ha detto quello era un Lazio che viaggiava sul velluto ma dopo un mese e mezzo di fermo non avevamo più le stesse motivazioni avevamo perso le motivazioni cioè i calciatori quelli lì e alcuni sono gli stessi di adesso avevano perso le motivazioni secondi in classifica a meno uno dal primo posto avevano perso le motivazioni ragazzi la Lazio è questa da sei anni è la stessa squadra che nell'ultimo anno di Inzaghi ha perso 3 a 0 a Genova contro la Sampdoria è la stessa squadra che sempre quell'anno ha perso 4 a 1 in casa contro l'Atalanta la stessa squadra che sempre quell'anno ha perso 5 a 2 a Napoli cosa che dopo 55 minuti stavamo perdendo 4 a 0 è la stessa squadra di Sarisburgo è la stessa squadra di Francoforte è la stessa squadra che ha perso in casa contro il Chievo retrocesso la stessa squadra con un allenatore diverso la Lazio deve lavorare su questo ok deve lavorarci Sarri ok deve dare una mano ma in primis sono i calciatori a doversi dare una mano sono i calciatori perché sono i calciatori che scendono in campo questo è ditemi cosa ne pensate nei commenti mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non lo avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza lato